Sono stati presentati in provincia a Gorizia alla presenza del vice presidente e assessore della cultura Roberto De Martin e all'assessore all'istruzione Maurizio Salomoni gli appuntamenti della tredicesima settimana della cultura indetta dal ministero pedibeni e le attività culturali da sabato 9 a domenica 17 aprile. Da domenica 3 aprile a domenica 1 maggio, quindi c'è una discrasia nelle date, dalle 10 alle 13 e delle 14 alle 19, lunedì esclusi, i musei provinciali di Borgo Castello accoglieranno Virtual G Art, la mostra di quattro artisti, il titolo e quattro artisti tra il reale e il virtuale, un'esposizione di arte contemporanea di Francesco Mai, Paul David Redfer, Walter Miskulnig e Danilo Bozic. Ma il giorno della Vernissage alle 17.30 ci sarà anche l'offerta musicale del Latanor Guitar Quartet. Ancora a Medea, nella Medea Art Gallery, ogni giovedì da domenica 17 a sabato 30 aprile, dalle 17 alle 19, c'è la possibilità di visitare Virtual G Art, i pur citars di Medea, l'arte della norsineria. Un'esposizione fotografica a cura di Paul David Redfer, Enzo Tedeschi e Mariano Di Clemente. E sempre nel Vernissage, il giorno della presentazione alle 11.30 alla Medea Art Gallery, è in programma una nuova esibizione dell'Atano Guitar Quartet. Tali iniziative sono organizzate dalla Sottuzione Culturale Graffiti e da Virtual G Museum.